Ora di YouTube, io tra poco vado a divertirmi alla grande, io vi ho preparato, ascoltatemi bene, innanzitutto abbiamo un solo ambo col 90, uno soltanto, ok? Parlo anche per il copione là, la ruta del sud, la ruta del sud, chiara il 90, ma l'altro grande regale che vi farò a quelli che hanno preso il pianotto, nella mia giornata, sulla costiera, anzi in questo caso in piscina, sì, in piscina, non in costiera, in costiera, sono stato ieri sera, attenzione, io vi farò questo grande regalo, a voi avete preso il pianotto, come se non bastasse il regalo del 16 e il 90 che avete avuto, io vi farò quest'altro regalo, ok? Mandatemi un messaggio su whatsapp che sono pronto ad omaggiarvi, ad omaggiarvi, a tutti quanti voi, ok? 8 al 90 sulla ruta del sud, ok? Specialmente chi ha la tecnica del 9 al 90, a dopo, ciao!